Il virus morde in tutta Italia e si sviluppa velocemente per via delle varianti. La cosiddetta terza ondata è in atto. Il professor Bruno dice teniamo alta l'attenzione. La prevalenza delle infezioni purtroppo è ancora alta nel nostro paese, supera i 250 ogni 100.000 abitanti. E questa sicuramente rende ragione del fatto che ancora ovviamente il virus circola molto, ci sono molti morti. Per il resto, insomma, devo dire che alla situazione ancora non abbiamo l'effetto importante dei vaccini sul contagio, se non in alcune fasce della popolazione, tra cui sicuramente i sanitari e gli over 80, almeno in alcune parti d'Italia. In Calabria l'impennata di contagi è frutto di comportamenti sbagliati. Il virus cammina sulle gambe delle persone, per cui appare tutto evidente che non ci sono altri motivi per cui il virus si sia diffuso. Quindi evidentemente c'è stato un calo di tensione che ha portato verosimilmente alla diffusione del virus. Insomma, se si hanno dei comportamenti virtuosi, il virus non si diffonde.